Goditi solo il meglio del sole, Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema per gotenda, le strutture Audor Bio Climatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Zappella, un giudizio su questo incontro dei liberali finito alla pari, risultato giusto oppure no? Sì, risultato giusto, la Ternana è una buona squadra, è venuta a pressarci subito alti, con molta aggressività. Noi ce la siamo cavata abbastanza bene, potevamo essere più incisivi in alcune ripartenze che abbiamo fatto, però è data bene, dai. Sei uscito dopo un'ora per un problemino muscolare probabilmente, però per un'ora hai tenuto benissimo il campo, quando un 98 e tre migliori in campo, eccellente esordio in Serie B. Sì, infatti, grazie, sono molto contento per questo mio esordio e soprattutto per la prestazione che ho fatto, è un punto di partenza, c'è solo da migliorare. Sei un classe 98, quindi un giovanissimo e comunque esordire in un campionato di Serie B, comunque anche qui a Terni con un pubblico, oggi eravamo di 5.000, non è facile. Quindi qualcosina prima della partita hai sentito qualche momento di agitazione oppure no? Pronti via subito? No, certo, un po' di tensione c'è stata, però mi sembra di averla gestita abbastanza bene e niente, sono molto contento. Hai preso anche l'ammunizione, no? Quindi potevi forse risparmiarla, no? Sì, potevi risparmiarla, però ero stanco, poi vabbè, ci sta dai. Tu sei un prodotto del Vivaio e quindi mister Viva Rini ti ha concesso ampia fiducia? Sì, sono un prodotto del Vivaio, sono qui da quando avevo 9 anni e adesso mi sono ritrovato a fare l'esordio dopo 10 anni che sono qui e niente, ho avuto molta fiducia e sono molto contento. Una tua impressione sulla Ternana? Una buona squadra, aggressiva, pressano alti, una buona squadra. Ok, grazie. Grazie.